FIAIP è partita dal congresso di Verona, abbiamo voluto mettere in campo la creazione e la progettazione di una digitalizzazione della compravendita immobiliare che si sviluppa e oggi è finalmente a terra in due piattaforme. La piattaforma RFIAIP è una piattaforma dedicata ad un'agenzia immobiliare nazionale che serve per poter dare servizi ai grandi gruppi immobiliari o alle necessità di un mercato ovviamente che non è quello a cui noi normalmente siamo abituati a lavorare, su cui lavoriamo. Contemporaneamente abbiamo voluto mettere in campo una piattaforma che si chiama una FIAIP che segue la nostra prassi di riferimento alla 40 2018 che ha preso vita lo scorso anno dopo anni e anni intensi di lavoro e che serve sostanzialmente a permettere ai nostri associati di poter entrare in piattaforma, digitalizzare un'intera compravendita immobiliare con i quattro step principali della nostra prassi che sono ovviamente la valutazione, valore commerciale per dare una giusta valutazione quindi una corretta valutazione di un immobile insieme ad una raccolta e un controllo documentale attraverso una partnership che abbiamo da poco concluso insieme a CRIF che ci permette di arrivare all'acquisizione documentale per il corretto controllo di un immobile prima di essere inserito in vendita. Penso che ormai si parli solo e esclusivamente di digitalizzazione quindi l'innovazione tecnologica deve necessariamente entrare anche sul mercato immobiliare abbiamo già tante situazioni di innovazione tecnologica abbiamo l'opportunità di inserire gli immobili i nostri clienti possono vedere gli immobili attraverso i portali e le pubblicità a questo punto dobbiamo accompagnarli quindi dobbiamo permettere ai nostri associati e quindi agli agenti immobiliari di poter svolgere rapidamente ma con l'acquisizione ovviamente di tutte quelle notizie necessarie ad una corretta transazione immobiliare attraverso i canali web su questo ci siamo impegnati e sicuramente siamo pronti e malleabili a voler cambiare eventualmente nel corso del tempo serva tutto ciò che sarà necessario per poter far svolgere la nostra attività ai nostri agenti immobiliari e quindi a tutti noi nel miglior modo possibile per una transazione corretta, a prezzo e per la garanzia della clientela finale.